Il Natale di Agropoli sulla Rai, sabato 30 novembre, il Tg Tinerante di Rai 3 farà tappa infatti nella città Porta del Cilento. Sarà una vetrina importante, afferma il sindaco Adamo Coppola, per presentare ai telespettatori il ricco programma del Natale delle Meraviglie 2019 che abbiamo messo in piedi. Previste una serie di iniziative tra tradizione e novità che sapranno emozionare e divertire chi vorrà scegliere la nostra che diverrà la città del Natale. Tanti gli appuntamenti pensati per i bambini, che sono poi coloro che sentono e vivono di più il Natale, ma anche per i meno giovani. L'appuntamento è alle ore 10 con il giornalista Rino Genovese presso il castello Angioino Ragonese, per svelare in anteprima il castello Incantato, la vera dimora di Babbo Natale, tra le più grandi in Italia. Il servizio verrà poi trasmesso allo stesso giorno sul Rai 3 alle ore 14. L'appuntamento di sabato attraverso le iniziative natalizie darà modo di compiere una promozione a 360 gradi per la città di Agropoli. Verranno mostrati infatti i suoi angoli più suggestivi e i principali punti di interesse in tutta la loro bellezza e il loro fascino. E ci sarà spazio anche per l'enogastronomia, insomma un biglietto di invito per i turisti di scegliere Agropoli in occasione delle festività natalizie.